salve può un videino come quello che avete visto essere attinente alla mission di libri tv penso di sì ed io per questo oggi io gianni colacioni in apertura delle trasmissioni di libri tv del 4 aprile 2014 ve ne parlo un videino musicale virale visualizzato in cinque anni da oltre 60 milioni o meglio se oltre 60 milioni di volte è secondo me un fatto mediatico e come tale anche politico la canzone è un brano appunto stand by me un soul famosissimo di ben haking è un successo del 1961 tratto da un vecchio canto gospel l'esperiente di percorrere tutto il pianeta al suono di questa canzone grazie a tanti artisti da strada nei vari luoghi nei vari luoghi del mondo e tutti questi artisti l'hanno suonata praticamente all'aperto perché artisti da strada e cantata è veramente straordinario ne è risultato un collage artistico musicale che travalica le frontiere e la discrepanza di tempi verbali che ho usato non è casuale è innegabile che il classico successo discografico a un tempo che anche che è anche anche se non solo è anche il tempo della sua distribuzione commerciale in tal caso appunto nel caso di questo video da cinque anni appunto circola e io l'ho scoperto poche ore fa in qualche modo ho potuto vivere l'emozione di ascoltarlo vederlo grazie a un social network come facebook poi risalendo a un'altra definitiva social che youtube grazie a un amico stefano martella che me lo ha segnalato e che ringrazio anche per questa segnalazione a dir il vero non so neanche se sia mai stato tecnicamente inciso su cd o venduto questa questa performance di questo tipo a mio parere la portata grandiosa dello strumento cioè la veicolazione via internet che evidentemente è stata oserei dire planetaria unita all'espediente della realizzazione questo ghiaggio diciamo in tutto il pianeta oggi si potrebbe chiamare partecipata da parte di più artisti tutti bravissimi ciascuno in via esclusiva per qualche attimo prima di passare al successivo per poi tornare indietro all'artista precedente e al luogo precedente ebbene tutte queste cose hanno reso questo video una specie di manifesto ovviamente non può essere trascurata la splendida melodia appunto che richiama il gospel gospel diciamo che ha una tradizione soprattutto statunitense molto importante artisticamente a questo punto come non citare playing for change punto com playing for change è una fondazione che appunto ha avuto l'idea della realizzazione di questa idea stupenda certo la tentazione di buttarla maggiormente perché secondo me già ci siamo ma maggiormente di connotare tutta questa vicenda maggiormente in modo politico è forte e senza temere di passare per nostalgico di linguaggi cadenze fascinazioni proprie di un certo movimentismo fine anni sessanta senza temerlo perché questo mio dire è senza strategie occulte beh è evidente che se un cocktail di espedienti così riusciti si potesse a questo cocktail si potesse aggiungere un messaggio ancora più politico sui temi sui temi universalmente condivisi ma per vari motivi non universalmente realizzati ecco sarebbe il massimo quale potrebbe essere questo messaggio per esempio un messaggio per il rispetto degli individui per il rispetto della libertà di scelta ma anche per la difesa di chi non ha gli stessi strumenti che abbiamo tutti per difenderci e per vivere ehm un messaggio per il superamento superamento delle bandiere delle barriere culturali come per esempio il razzismo ma anche per il rispetto dell'ambiente oppure contro le barriere politiche come per esempio i confini che spesso imprigionano i popoli nelle nazioni alla merced dei rispettivi cedi dirigenti oppure ancora immaginate un'iniziativa un'iniziativa simile in salsa europea per il superamento dell'Europa delle patrie per una patria europea fatta appunto da Stati Uniti come spesso auspica e chiede da tempo Marco Pannella potrebbe essere addirittura un evento mediatico che travalichi eh il anche il quasi imminente appuntamento eh elettorale europeo non so se questo mio appello avrà fortuna potenzialmente potrebbe avere la stessa fortuna di questo video che vi abbiamo fatto vedere sessanta milioni di visualizzazioni più di sessanta milioni di visualizzazioni in cinque anni l'esperienza mi dice che in realtà eh è e sarà molto diversa comunque ci ho provato e spero se ne possa riparlare comunque sul tema dell'elezione europea i libri tv eh sta realizzando si sta attrezzando mh per trattarlo eh la settimana prossima mh seguendo eventi specifici e se ci seguirete riuscirete appunto eh in qualche modo ad avere qualche informazione in più su questo appuntamento elettorale. Allora io vi ringrazio per avermi ascoltato oggi è una virgola un po' un po' particolare. Io ringrazio Donato Volpicella come sempre per la regia di queste trasmissioni. Ricordo che LibriTV è un'associazione che si sostiene da sola come può e come sa e eh servono risorse eh ma non solo economiche soprattutto anzi direi risorse umane nel senso che ci servono idee e persone che collaborino collaborino con noi. Eh come poter aderire a LibriTV è molto semplice lo potete trovare sul sul sito eh e rapidamente passo a illustrarvi il paninsesto come è sempre eh molto molto interessante. Ehm alle 20.45 avremo in diretta per voci radicali eh una conversazione faremo una conversazione con Fabrizio Cianci segretario dell'associazione radicali ecologisti associazione radicale quindi un riconoscimento ufficiale ottenuto da poco e questa diciamo conversazione in diretta la condurrò io. Alle 21.15 un altro voci radicali molto importante una conversazione con Alessandro Massari membro della direzione di radicali italiani e parleremo di economia con Alessandro Massari e conduce condurrà questa conversazione in diretta eh Marco Marchese. Alle 21.45 eh un appuntamento registrato molto importante per voci transnazionali passeremo parleremo dell'Iran una conversazione con Esmail Moades portavoce dell'associazione laureati eh iraniani in Italia e eh parleremo appunto di alcune eh aggiornamenti per quanto riguarda la vicenda iraniana e anche con un salto nella storia di questo popolo che insiste in questa zona eh di cultura antica persiana. faremo appunto dei salti e sarà molto interessante. Eh alle 20.20 per liberi di credere una rubrica che abbiamo inaugurato un po' di tempo fa ormai un annetto fa una conversazione con Daniele Fontana ex testimone di Geoa fondatore della pagina Facebook eh molto seguita e molto nutrita uscire dai testimoni di Geoa ferite profonde del loro ostracismo e questa è una vicenda di cui ci occupiamo da un po' di tempo in seguito se ne ho occupato anche un famoso programma che si chiama Le Iene. Noi continuiamo a occuparcene senza dare ovviamente eh limiti in qualche modo di tempo eh e di eh durata anche perché poi avremo in prospettiva anche delle testimonianze personali eh e le stiamo organizzando. La fine della trasmissione è prevista per le 22.50. Io se tutto va bene speriamo che vada bene. A questo punto io vi ringrazio ehm di avermi ascoltato fino adesso. Vi do appuntamento a fra pochissimo alle 20.45 per voci radicali con Fabrizio Cianci. Restituisco la linea alla regia. Grazie. Grazie.